E tanto adesso arriviamo giù in finestra Passiamo dove eravamo prima Passiamo in finestra Di là, di là se vede Ginnastica, ginnastica Ok, qui in finestra Spare qua Vediamo Sud seddici 확ino Davide dietro indietro il peso indietro ancora di più bravo bravissimo indietro bene non stare avanti così lasciarla correre un po' nelle curvette bravo aiuto aiuto io adesso indietro hmm Grazie a tutti. Grazie a tutti.